Ciao, benvenuti al primo nodo ai gomiti vi faccio vedere in breve come si fa si chiama Superman è stato ispirato da quelli che sono i movimenti del Lula Hoop quindi i passaggi ai gomiti del Lula Hoop ve lo faccio vedere in questa... si tratta di passare la corda al di sotto e al di sopra dei nostri gomiti e aprirci a mo' di Superman ve lo faccio vedere frontale, è abbastanza semplice passiamo la nostra corda sotto il gomito sinistro e la facciamo uscire da sopra la lasciamo qui andiamo dietro il gomito destro e apriamo ve lo faccio rivedere la cosa importante è ovviamente aprire le braccia contemporaneamente in modo da poter sciogliere il nodo al gomito ve lo faccio vedere un'ultima volta enjoy